Sono stati impegnati in Bulgaria nell'operazione cosiddetta EVA, avviata dalla Nato in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio dello scorso anno. Oggi i fanti dell'82esimo reggimento Fanteria Torino di Barletta sono stati riaccolti in patria, con una cerimonia svoltasi nei pressi di Eraclio in corso Vittorio Emanuele II nella loro città. La presenza avanzata della Nato in Slovacchia, Bulgaria, Romania e Ungheria è costituita dallo schieramento di gruppi tattici multinazionali, ciascuno guidato da un Framework Nation complementare alle forze dei paesi ospitanti. Nell'ambito di tale iniziativa l'Italia ha assunto la guida, quale Framework Nation, di il Battle Group di Bulgaria. L'invio degli uomini dell'82esimo reggimento Fanteria Torino ha portato alla costituzione del primo contingente italiano nel paese. Nel corso della cerimonia è stata data lettura di una lettera d'encomio ai militari, recapitata dal ministro della difesa Guido Crosetto al sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Che la loro missione ha un alto valore morale e politico perché rappresenta lo Stato italiano che decide per sempre in ordine alla sua Costituzione, in ossegue alla sua Costituzione per difendere i valori e i principi della libertà e della democrazia. È un atto dovuto, istituzionale da parte del Comune perché questi uomini e queste donne hanno lavorato, hanno sopportato disagi perché stare lontano dalla propria patria è comunque sempre un disagio ed è anche una grande responsabilità e colgo l'occasione per ringraziare tutte le Forze Armate per il lavoro svolto e soprattutto anche i familiari che sopportano i disagi dovuti al fatto che i loro cari sono lontani in missione di pace.